Musica Mezzanotte 6, in questo momento buonasera, benvenuti a Night Desk per cercare di fare il punto della giornata. Giornata che però si chiude con una bruttissima notizia, la morte di Nelson Mandela, Madiba. Aveva 95 anni, era malato da tempo e quindi da tempo ormai non si vedeva in pubblico, però insomma è una di quelle notizie che scioccano, che rattristano sicuramente tutto il mondo. Mandela, probabilmente lo ricorderete, premio Nobel per la pace nel 1993, ma soprattutto è un uomo che ha passato 27 anni in prigione per difendere i propri ideali. È stato arrestato nel 1964 ed è stato liberato nel 1990 e soprattutto è colui che è riuscito in Sudafrica a evitare che la fine dell'Apartheid significasse anche un bagno di sangue. Ha parlato di pacificazione, è stato una sorta di Gandhi Nero, insomma è stato tante cose Nelson Mandela. Noi vogliamo ricordarlo questa sera, abbiamo un servizio che ha preparato per noi Paola Mascioli e che vi vogliamo mostrare, dopodiché vi faremo vedere quali sono le reazioni nel mondo, perché ovviamente la scomparsa di Mandela, di cui si è saputo circa un'ora e mezzo fa, come vi dicevo ha colpito davvero tutti. Il servizio. Aveva il destino nel nome quel bambino nato nell'estate del 1918. Il padre, un capo del clan Madiba, lo chiamò Roli Lala, che in lingua sciosa vuol dire attaccabrighe. Ma durò solo 17 anni, il maestro della scuola missionaria impose al piccolo un nome inglese, Nelson. Per essere educato al mestiere del padre, consigliere reale, fu mandato a studiare legge in una università per neri, ma per evitare un matrimonio combinato, Nelson scappò a Johannesburg. Fu lì che conobbe la dura realtà di segregazione che neri, meticci e indiani vivevano in tutto il Sudafrica. Con l'amico Oliver Tambo aprì uno studio legale per assistere i perseguitati e nel 1944 fondò la Lega Giovanile dell'African National Congress. Quattro anni dopo, con il solo voto dei bianchi, il filo nazista National Party di Daniel Malam vinse le elezioni. La popolazione fu divisa su base razziale, l'apartheid prendeva corpo. Mandela, ispirato ai principi di Gandhi, che aveva vissuto in Sudafrica, organizzò campagne di disobbedienza civile. Nel 1952 fu eletto vicepresidente dell'ANC. Nel 1960, durante una manifestazione nella township di Sherpeville, la polizia sparò sui manifestanti. Ne uccise 69. Il massacro spinse Mandela alla clandestinità e ad abbandonare la non-violenza. Dopo un anno, il braccio militare dell'ANC iniziò le azioni di sabotaggio. Nel 1962 fu arrestato e condannato a cinque anni. Un successivo processo lo consegnò all'ergastolo. Si aprirono le porte di Robben Island. Lo attendevano 27 anni di reclusione, durante i quali non ha mai smesso di lottare. Nel frattempo, l'apartheid aveva portato il Sudafrica all'isolamento internazionale e a metà degli anni Ottanta iniziarono negoziati segreti. Dopo due anni di incontri con il presidente de Klerk, l'11 febbraio del 1990, Mandela tornò libero. Lo aspettava un mondo nuovo e tra la fola che lo acclamava, moltissimi bianchi. Con de Klerk nel 1993 vinse il Nobel per la pace. Nel 1994, le prime elezioni multiraziali della storia sudafricana, Mandela divenne il primo presidente nero con un compito immenso, riunire il paese. Cosa che in parte gli riuscì con la Commissione per la Riconciliazione Nazionale e una politica di pacificazione che passò anche attraverso lo sport più bianco che ci fosse in Sudafrica, il rugby. È stato il simbolo della lotta all'ingiustizia, il padre nobile dell'Africa postcoloniale, l'unico dei liberatori del continente a rifiutare il secondo mandato. Nel crepuscolo della sua vita ha preferito dedicarsi alle cause umanitarie come la lotta all'AIDS, piega nazionale che gli ha portato via un figlio. Ora che se n'è andato e il mondo lo piange, si guarda al suo paese che lui cercò di rendere arcobaleno e si teme che i mai sopiti rancori possano riesplodere. Allora, questo era Nelson Mandela, Sonia Mancini in studio con noi per la redazione Esteri Economia. Buonasera. Accanto a lei presento già anche Franco Rina per la redazione politica e poi i nostri ospiti ai quali daremo fra un attimo la parola. Noi parleremo solo di Vivi dopo Mandela. Con il massimo rispetto Franco per Mandela, ti prego. Davide Zoggia, PD, buonasera. Buonasera a voi. Senatore Carlo Giovanardi, nuovo centro democratico. Buonasera. Sonia Mancini, dicevamo... Nuovo centro-destra. Nuovo centro-destra. Io continuo a sbagliarmi e è la seconda volta che ho questo lapsus e qualche cosa vorrà dire. Concentriamoci invece su Mandela ancora per qualche istante. Dicevamo, tantissime le reazioni nel mondo, in particolare una. Allora, le diciamo una per prima, Ban Ki-moon. Sono profondamente rattristato di apprendere della morte dell'ex presidente sudafricano Nelson Mandela. È stato un grande uomo, un gigante per la giustizia e fonte di ispirazione per l'umanità. E poi, se sei d'accordo, mi accancio perché poi ritorneremo sull'ambito politico. Invece c'è un commento fatto da un politico italiano che in questi giorni... No, io voglio sapere di Obama. Obama. Perché è lui che ha sempre avuto Nelson Mandela come faro, come cuore. Nel suo pantone ideale c'è sempre stato Mandela. Nel suo discorso, diciamo, di condoglianze, il presidente americano Barack Obama in diretta televisiva ha detto che non può immaginare la sua vita senza la figura di Nelson Mandela. E poi lo ha citato, ha citato Mandela che cosa diceva quando ancora era in vita e ha detto... Mandela diceva Ho combattuto contro il dominio dei bianchi e ho combattuto contro il dominio dei neri. Ho amato l'ideale di una società democratica e libera in cui tutti possono vivere in armonia e con pari opportunità. È un ideale per il quale spero di vivere e che spero di raggiungere. Allora Obama ha detto Mandela ha vissuto per questo ideale e lo ha realizzato. Mandela è uscito dalla prigione e mi ha dato l'idea di cosa si può raggiungere quando si è guidati dalla speranza. Ha raggiunto, ha detto sempre Obama... Lo stiamo vedendo tra l'altro mentre se ne va e sicuramente si è commosso. Era commosso il presidente americano e ha concluso dicendo ha raggiunto più di quanto ci si possa aspettare da ogni uomo e oggi è tornato a casa. Fermiamoci e ringraziamo lui del fatto che è vissuto. Grazie, credo che questo sia sufficiente. Le parole di Mr. Obama sono sufficienti per ricordare. Mandela, dicevi c'è stato anche qualche reazione italiana. C'è stato anche un politico italiano, Matteo Renzi, che di cui in questi giorni ovviamente si sente molto parlare ed è interessante sentire che lui lo ha conosciuto direttamente Nelson Mandela e lui ha detto così, ha detto Quando gli ho dato la mano, consegnandogli il fiorino d'oro di Firenze, mi è sembrato di toccare la storia. Nelle sue mani c'erano il peso e la grandezza di una vita combattuta in difesa di un ideale. È stato in assoluto uno dei più importanti protagonisti del ventesimo secolo. Grazie, grazie a Sonia Mancini. Voi per caso l'avete conosciuto? No, io personalmente no. Non vi è mai capitato. Va bene. Questo era Nelson Mandela. I giornali di domani stanno adesso arrivando con le ribattute, perché la notizia è tutto sommato recentissimo, ormai meno di due ore fa e quindi stanno ribattendo le prime pagine. Qualcuno però già lo abbiamo e ve lo possiamo mostrare. E riassume invece quella che è stata la giornata di oggi, che ovviamente, come potete immaginare, è stata la giornata del contraccolpo. Ieri sera lo shock della sentenza, della consulta e oggi si cerca di capire che cosa diavolo succederà, perché questo Parlamento è davvero legittimato ad andare avanti oppure no, ci se lo è chiesto, è intervenuto il Presidente della Repubblica e vedremo che cosa ha detto. Ma ovviamente si cerca anche di capire come uscire da questo impasse. Bisogna fare una legge elettorale. Oggi fra Camera e Senato è in corsa una sorta di zuffa, no? La vogliamo fare noi? No, la vogliamo fare noi. E c'è stata una strana saldatura fra Movimento 5 Stelle e Forza Italia che potrebbe in qualche modo mettere in crisi tutto il sistema. Allora, andiamo a vedere come appunto ce la raccontano i quotidiani. Rapidissimamente, partendo dal messaggero. Il messaggero, lo vedete, ha comunque la fotografia e la notizia di Mandela, ma il primo titolo è dedicato ancora alla legge elettorale. Così si cambia. C'è un'intervista a Dario Franceschini, Ministro dei Rapporti con il Parlamento che dice dopo la consulta proposta del Governo per il doppio turno. Dunque si concretizza a sentire almeno il Ministro Franceschini l'ipotesi che ci possa essere un intervento appunto del Governo perché il Parlamento, sia in sua Camera o Senato, non è stato in grado di fare ciò che avrebbe dovuto fare. E poi ecco qua le parole del Presidente della Repubblica che dice Parlamento legittimo no al proporzionale. Questo scontro che vi segnalavamo fra Camera e Senato. Andiamo avanti. L'unità, eccola qua, carica i toni ed è la vendetta del Porcellum. Scontro fra i partiti dopo la sentenza, le parole del Presidente che dice che appunto il Parlamento è legittimo ma la riforma è un imperativo e poi l'allarme di Renzi e un dossier ci segnala con 11 risposte per capire cosa succederà. E in realtà anche un'intervista a un costituzionista Capotosti che dice che le Camere sono a rischio perché la sentenza della Corte potrebbe essere retroattiva. Andiamo avanti. Vediamo qual è il titolo del giornale. Ieri era molto lugubre, oggi dalla farsa al caos Parlamento decaduto. E ecco qua viene segnalato questo asse Berlusconi-Grillo sulla legge elettorale per poi andare al voto. Dopo il giornale vi facciamo vedere libero. Via il Porcellum restano i maiali. I maiali sono quelli che questa mattina sono stati portati da col diretti in piazza Montecitorio per protestare contro le contraffazioni del Made in Italy. Ma intanto appunto il gioco di parole è questo e il libro dice che bisogna votare subito. Andiamo a vedere l'altro quotidiano. Eccolo qua. Invece il Sole 24 Ore che dà notizia ovviamente di questa vicenda ma la notizia principale per il Sole è una notizia economica. E ha a che vedere con le parole del governatore della Banca Centrale Europea, Draghi, che oggi si è espresso il Presidente, che ha detto priorità all'economia reale, che sembra una banalità ma detta da lui invece ha un certo senso perché Draghi ha fatto un po' un mea culpa. Ha detto pronti a immettere nuova liquidità solo se va a imprese e famiglie, cosa che non era invece successa un paio di anni fa. Ancora l'ultimo quotidiano che vi mostriamo, eccolo qua, no il penultimo, anzi la Padania perché ci sono le primarie anche della Lega, quindi vengono annunciate lo scontro fra Salvini e Bossi, che dice domani le primarie, nel senso sabato ovviamente, e l'ultimo invece dovrebbe essere l'avvenire, quello che abbiamo, eccolo qua, con un rapporto shock che è stato presentato in Europa oggi, Eritrea, figli venduti, donne e bambini nel traffico di esseri umani, un rapporto di cui si è occupato avvenire. Allora, dicevamo, il Presidente Napolitano è intervenuto e Franco, anzi Napolitano, ecco era a Napoli, giusto? È intervenuto per fare un po' di chiarezza. L'ha fatto abbastanza con toni molto duri, insomma, molto precisi, sentiamolo magari. Lo sentiamo anche, va bene, rapidissimo, dai. Finalmente la riforma elettorale è giudicata necessaria da tutte le parti. Diventa ormai imperativa tale espressione di volontà, attenta a ribadire il già sancito superamento dal 1993 del sistema proporzionale e a ribadirlo insieme con la introduzione di modifiche costituzionali per quel che riguarda almeno il numero dei parlamentari e il superamento del bicameralismo paritario. Ecco, poi ha aggiunto un'altra cosa, poi mi fermo, che a me ha colpito abbastanza, perché ha detto anche diventa imperativo ribadire il superamento del sistema proporzionale. Quindi dà un'indicazione. Non sembra un'indicazione. Un'indicazione. Se non la vede come un'invasione. Se sia un'invasione o no, questo lo vedremo fra un attimo. Adesso faccio un paragone udace, torno a un secondo a Nelson Mandela per dire che dei rivoluzionari nella storia ce ne sono stati tantissimi. E di solito l'hanno causato sciagure ai loro popoli quando riuscivano a fare la rivoluzione. L'eccentricità e la straordinarità di Mandela... Nel caso di Mandela no. L'ha fatto straordinario, forse irripetibile, che è stato un rivoluzionario che poi ha dimostrato saggezza, ponderazione, moderazione, pacificazione nell'interesse del suo popolo. Adesso faccio un salto all'Italia di oggi, vedendo i titoli dei giornali. Secondo me abbiamo bisogno anche noi dei Mandela della situazione, cioè di persone che abbiano non incendiari, titoli incendiari, ma la consapevolezza, come ha detto Napolitano, che non è che dobbiamo fare delle cose straordinarie. Noi abbiamo un anno di tempo davanti, e ci vuole, dopo la sentenza della Corte indispensabile, per fare esattamente quello che è capo dello Stato ha detto. Un anno di tempo, senatore? Scusi, il Napolitano ha detto che bisogna rifare la legge elettorale con un premio di maggioranza o comunque un sistema maggioritario e non proporzionale puro. Bisogna diminuire il numero dei deputati, cosa che abbiamo promesso era stata fatta, poi il referendum non l'aveva fatto passare, ma è un'aspettativa comune, e toccare il bipalarismo, quello che facendo votare in maniera diversa a Camera è semato, e facendo fare le stesse cose più volte, rende il sistema ingovernabile. Quindi lei è della scuola che in realtà il governo in questo modo si rafforza e si glida. Perché c'è invece come... Scusi, non è una scuola. Chi conosce il Parlamento e i tempi parlamentari sa che se si vogliono fare queste cose ci vogliono alcuni mesi. Poi c'è il semestre italiano, poi giustamente nel 2015 le forze politiche andranno a votare e col sistema rinnovato c'è chi vincere e c'è chi perderà. Chi ancora si culla nell'idea di lezioni anticipate, cioè di precipitare il Paese senza aver fatto quelle cose, vuol dire che è il tifoso del caos. C'è una situazione nella quale ci troveremmo il giorno dopo peggio del giorno prima. Zoggia, lei è d'accordo? E soprattutto secondo lei sarà d'accordo il futuro probabile segretario del PD che appunto segnalava delle criticità dopo questa sentenza? Andiamo per ordine. Ovviamente dobbiamo aspettare le motivazioni della sentenza. E va bene questo. Però mi pare abbastanza chiaro che per come si sta mettendo dovessimo tornare al voto immediato senza una modifica della legge elettorale il Paese sarebbe nuovamente ingovernabile. Un sistema proporzionale puro dove sostanzialmente non c'è un premio di maggioranza fa sì che non ci sia nessuna coalizione o nessun partito che può avere la maggioranza. per cui sarebbe l'ennesimo ritorno alle cosiddette larghe intese e quindi una situazione di fatto ingovernabile. Credo anch'io che quest'anno... Ma se si salda questa coalizione per ora assolutamente ipotetica fra Forza Italia e il Movimento 5 Stelle è una parte del suo partito che l'ha chiaramente fatto capire di voler andare presto alle elezioni. Lo stesso... Ma non sarà così. Cioè adesso voglio dire... Civati per esempio è uno che dice andiamo a votare presto, no? Il governo deve cadere. Potrebbe succedere. Il suo partito è determinante in questo senso. Ma allora il mio partito ha tanti... E ha dimostrato di non essere proprio unitissimo nei voti. Il mio partito ha tanti difetti, diciamo. Però lunedì avrà un segretario e nei prossimi giorni avrà un nuovo gruppo dirigente. Ed è un partito che è abituato a discutere anche animatamente ma poi assumere delle decisioni. La decisione che il mio partito assumerà in accordo con il Presidente del Consiglio è una decisione che farà sì che già mercoledì 11 si vedrà fiducia al governo probabilmente una fiducia immediata e la necessità nel mese successivo di scrivere dettagliatamente quello che sarà il programma di governo per il 2015 e quindi al primo posto come diceva giustamente il senatore Giovanardi la necessità di lavorare per le riforme oltre al tema economico e sociale che stiamo già affrontando con la legge di stabilità. Dopodiché un anno mi sembra francamente tanto. Ma no, ma i tempi sono questi. Ma non vi si crede nel senso che già con Monti quando c'era il governo Monti era stato dato incarico al Parlamento di rifare la legge elettorale e non se ne è fatto nulla. Continuate a credere ai cacciaballe cioè a quelli che vi raccontano delle cose che non stanno in cielo per il intero e ripro i giornali di disinformati o sproveduti che continuano a scrivere cose fuori dalla realtà. Poi mi faccio dire l'alleanza Grillo-Forza Italia eventuale al di là che non ha i numeri ma è un'alleanza che rischia di fare del male al Paese perché far precipitare in questo momento il Paese ad elezioni in una situazione così incerta dal punto di vista istituzionale e altrettanto incerta dal punto di vista economico io penso che sarebbe una cosa che mira più a interessi propri che a interessi collettivi. certamente il Parlamento è messo in mora certamente c'è stato un ritardo certamente non c'è stata una capacità politica è inutile negarlo questo purtuttavia le parole del Presidente della Repubblica sono chiare e inequivocabili a questo punto non ci sono più alibi il nuovo segretario... non c'erano neanche prima non c'erano neanche prima ma voglio dire la legge elettorale bisogna saperlo si dovrebbe fare siccome stiamo parlando del campo diciamo che delimita il gioco non è che lo fa soltanto una squadra no, certo lo dovrebbe fare la squadra più ampia è chiaro che in questo punto se Movimento 5 Stelle e Forza Italia si tirano fuori è evidente che le altre forze politiche quelle prevalentemente di maggioranza dovranno andare il Partito Democratico tra l'altro ha trovato una sintesi felice mi pare di poter dire per quanto riguarda il sistema da proporre ora io avevo sentito Alfano a letto di Alfano due giorni fa che mi pareva che sul doppio turno avesse in qualche maniera diciamo aperto oggi ho visto un titolo adesso che dice che invece insomma insomma il doppio turno secondo me è il sistema migliore purtuttavia ci devono essere due condizioni sulla nuova legge elettorale assolutamente diciamo indispensabile la prima che alla sera si sappia una volta che si aprono le urne chi governa il paese per i prossimi cinque anni e la seconda è che i cittadini scelgano direttamente i propri parlamentari queste sono le condizioni diciamo per cui serve il premio di maggioranza che non potrà essere come quello che c'è attualmente e serve anche un sistema preferenze o doppio turno di collegio o insomma troveremo il modo per cui gli elettori scelgano direttamente i propri rappresentanti allora nel frattempo mi hanno portato anche la prima pagina del fatto quotidiano la vogliamo guardare insieme se la regia ce la fa vedere eccola qua vedete quello che dicevamo prima insomma di questa grande zuffa il giorno dopo tutti contro tutti scrive il fatto il giorno dopo il ceffone della consulta sul porcellum la rissa di vampa peggio di prima Camera e Senato litigano su chi debba discutere una riforma elettorale che ancora peraltro appunto non esiste Napolitano giura sulla legittimità del Parlamento che lo ha eletto ma la vera spaccatura è tra chi vuole elezioni e chi no torniamo a Mandela allora no non torniamo come se lui avesse detto dopo che l'hanno liberato invece di dire costruiamo assieme a Sudafrica avesse citato le etnie a combatterci l'una con l'altra nel senso dello sfascio del paese esattamente il rovese Napolitano giustamente ha rilevato che da ieri è cambiato tutto perché fino a ieri c'erano forze politiche che pensavano che si potesse tornare a votare col procello cioè che anche chi pigliava il 12% se gli altri pigliavano meno pigliava più dei 50% e tramontato con i premi di margioranza non si può più fare è obbligatorio fanno un'altra e discuteremo il doppio turno evidente che danneggi moderate lo sanno tutti che se va a votare due volte la seconda volta la sinistra è più organizzata e gli altri non vanno più a votare però abbiamo detto tante volte se fosse un doppio turno come in Francia con anche il semipresidenzialismo che c'è un precedente che viene eletto che stabilizza comunque il sistema allora se ne può parlare però stiamo parlando dopodiché però io vorrei sapere se perché visto che lei dice non dobbiamo essere diffidenti per carità non si capisce in base a che cosa dovremmo credervi ma va bene decidiamo che vi crediamo sono passate 24 ore io mi riferisco da quando Mario Monti andò al governo e disse al Parlamento l'unica cosa che vi chiedo è fatta la legge elettorale e non è stata fatta così forse non ci siamo capiti il porcellum non è stato modificato lei dice perché qualcuno sperava che sopra non lo voleva modificare perché i capi di partito direi tutti era assolutamente conveniente per loro sistemare nelle liste elettorali adesso non lo possono più fare quindi da 24 ore non da due anni da 24 ore abbiamo una grande novità che costringe il Parlamento a fare una nuova legge però è talmente ineludibile che il governo non si fida e come abbiamo visto sulla prima pagina del messaggero ma in realtà la voce già girava da un paio di giorni vero Franco me lo confermi perché era una voce che girava pensa addirittura di intervenire e quindi con un decreto o qualche cosa che sarà poco elegante però è un modo per dire pensa perché lei l'ha visto il decreto? no glielo sto chiedendo è una domanda secondo me il governo non interverrà con un decreto in materia elettorale proprio non credo Letta ne farà riferimento nel suo intervento ne potrà fare riferimento ma le posso garantire la mia previsione avendo fatto 5 anni di miso di rapporti con il Parlamento e avendo una certa esperienza che un governo visto che siamo in materia elettorale ben difficilmente potrà prendersi la responsabilità di essere lui scavalcando il Parlamento a fare una proposta su una legge che è specificatamente di interesse parlamentare e non di governo quindi non succede e invece la zuffa fra Camera e Senato come finisce? Lei è alla Camera lei è al Senato oggi vi siete litigati e non solo vi siete litigati fra senatori e deputati ma all'interno del PD ci sono state scintille abbastanza alte perché come sappiamo ci sono deputati che accusano i senatori del PD di frenare o rallentare comunque le cose? Diciamo che c'è un tema vero nella legge elettorale o comunque nella riforma costituzionale istituzionale che si sta portando avanti c'è l'abolizione del Senato per cui si dovrebbe creare il Senato delle Regioni o comunque una Camera che fa riferimento agli enti locali e in modo particolare alle Regioni e quindi c'è parte di molti deputati la sensazione che in quel ramo del Parlamento il Senato in qualche maniera non si voglia affrontare con la giusta determinazione Cioè lei dice il tacchino non si immola da solo Io conosco prevalentemente insomma a parte il senatore Giovanardi ma anche molti senatori del PD e posso garantire che c'è l'assoluta volontà di andare avanti il tema è che non essendoci un'intesa per quanto riguarda il modello elettorale fino adesso è evidente che c'è stato un rimpallo cioè non penso lo dico con tutta franchezza non per sminuire il ruolo della Camera cioè c'è un tema politico di difficoltà al Senato e c'è un tema politico di difficoltà anche alla Camera è inutile nascondere però forse la Camera avreste più i numeri o no? Sì abbiamo più i numeri però adesso non abbiamo davvero più alibi o più diciamo la possibilità di un rimpallo per cui adesso il tema è che il provvedimento deve viaggiare spedito diciamo sui due rami del Parlamento cioè non è che ci debba essere la prevalenza di uno rispetto all'altro quindi lo farebbe fare da entrambi no non è che lo faccio fare a entrambi dico che in questo momento è stata assegnata alla Commissione Affari Costituzionali Istituzionali del Senato la riforma della legge elettorale e si sono riuniti anche ieri se non guardo un po' di tempo no? Sì cioè adesso di fronte a questa diciamo novità di fronte al fatto che noi domenica sboggiamo le primarie e quindi già all'inizio di settimana prossima ci sarà il segretario insediato avremo una riunione di gruppi parlamentari con il nuovo segretario martedì in previsione della fiducia di mercoledì undici e io credo che il punto principale non vorrei dire l'unico ma il principale sarà quello eletta nel discorso diciamo per la rinnovata fiducia che farà l'undici probabilmente metterà al primo punto la riforma elettorale va beh sinceramente mi sfugge la materia del contendere perché nel bicameralismo perfetto che abbiamo la Camera può fare quello che vuole ma poi lo deve passare al Senato quindi che faccia la proposta della Camera o del Senato alla fine è una questione simbolica giovanardi uno dice intanto almeno l'ho approvato in un ramo del Parlamento quindi sono le solite battaglie su nulla perché anche se un ramo del Parlamento la Camera lo approva e poi il Senato non concorda non cambia e torna al Senato comincia a togliere il primo mattone e poi viene giù tutta la costruzione no? finalmente e infatti se non c'è un accordo una forzatura invece che accorciare i tempi non fa altro che allungare va bene allora io fra pochissimo devo dare la pubblicità prima di dare la pubblicità però voglio fare vedere un attimo perché è vero che lei dice un anno di tempo non si vota però intanto voi per stare sul sicuro voi del nuovo centro-destra oggi avete presentato il vostro simbolo elettorale Franco ce lo racconti? ci sono le europee vediamolo vediamolo è un simbolo che non ha un nome all'interno della cornice eccolo qua NCD ce l'ha anche tutto il simbolo sì non ha un nome di leader non ha il nome di Alfano non ha il nome di Giovanardi questo è una è una novità è una novità a destra esatto a lei piace ha scatenato a lei piace sembra quasi uno scudo anche se lo sta tenendo ha scatenato parecchie ironie ma come hanno reagito loro però insomma a lei è piaciuto? io devo dire la verità avendolo visto in maniera tradizionale in un cerchio cioè come verrà presentato l'elettore nella scheda elettorale dentro al cerchio mi ha fatto molto meno impressione perché qualunque simbolo tirato fuori dal cerchio che si è abituato a vedere sulla scheda fa impressione perché non sembra un simbolo elettorale invece cerchiato sembra un simbolo formigoni ha detto che era futurista guardi noi dobbiamo dare un messaggio molto chiaro non siamo fini non siamo casino non siamo la sinistra siamo il centro-destra alternativa alla sinistra quindi c'è chiaro che il nostro elettorato è quello lì non vogliamo occupare uno spazietto al centro che balla fra la destra la sinistra dove tutti si estinguono avete visto sciolta civica in sei mesi ha dilapidato il suo patrimonio quindi il messaggio che diamo noi vogliamo essere il nuovo centro-destra italiano una proposta per i moderati che fra un anno sarà alternativa a quella della sinistra vedremo allora ci fermiamo pubblicità dopodiché ripartiamo invece da Zoggia che in quanto responsabile organizzativo sta mettendo si spera appunto proprio le ultimissime cose perché appunto domenica è già fatto tutto già a posto non c'è più niente da guardare c'è molto da guardare però insomma il più è fatto va bene perché domenica appunto ci sono anche le primarie del PD a dopo mezzanotte 41 in questo momento quest'anno praticamente non se ne è parlato delle regole per votare alle primarie del PD al contrario di quello che era avvenuto l'anno scorso davide Zoggia responsabile dell'organizzazione per l'appunto il PD l'anno scorso ormai sapevamo nel dettaglio tutto hanno litigato tanto prima non siamo temprati ormai stavolta è più facile è più semplice non è necessario pre-registrarsi non è necessario fare niente chi vuole si presenta al proprio gazebo giusto? sì in realtà la pre-registrazione c'è ancora fino a domani non è obbligatoria no è obbligatoria per i sedicenni i sedicenni devono registrarsi entro domani a mezzogiorno perché il sedicennio non ha la tessera elettorale perché il sedicennio non ha la tessera elettorale quindi teoricamente la giornata di domenica potrebbe andare a votare in 20 seggi diversi sarà interessante vedere quanti sedicenni ma io credo ce ne sarà un numero considerevole quindi abbiamo già 80.000 90.000 pre-iscritti complessivamente basterà recarsi al seggio domenica con la tessera elettorale documento di identità pagare 2 euro se non si è iscritti se si è iscritti invece non si paga e molto semplicemente si firma una lettera d'intenti che è sostanzialmente la lettera di adesione al partito democratico non la lettera di iscrizione ma un'adesione un'adesione ideale ideale diciamo e poi si può votare io credo e con i 2 euro si ha anche l'abbonamento all'unità europea quello solo con la pre-iscrizione con la pre-iscrizione perché con la pre-iscrizione si pagano 2 euro e 50 e si ha l'abbonamento diciamo ai quotidiani che fanno riferimento al partito democratico unità e europa left quindi conviene quasi conviene ma io penso che nonostante quello che si sta dicendo in questi giorni la partecipazione ci sarà sarà una partecipazione significativa non dico esattamente cioè se la sente di sbilanciarsi e dirci un numero la sento nel senso che i 3 milioni e 2 diciamo del 2012 al primo turno sono complicati però in questi ultimi giorni si sta respirando un'aria di ritorno diciamo al gazebo quindi penso che ci sarà una partecipazione molto ampia tenendo conto che la percezione corretta da parte degli elettori che andranno al gazebo è che non si sta votando per il presidente del consiglio questa volta ma si sta votando per il segretario del partito quindi evidentemente è una competizione è diversa c'è un clima completamente però nonostante questo il fatto di poter partecipare alla scelta diciamo di un leader perché comunque chiunque vincerà sarà un leader del partito del partito democratico insomma credo sia un'esperienza entusiasmante quanti gazebo mettete quindi alla fine? alla fine dovrebbero essere 8.800 e l'avete risolto anche nei posti dove avete dovuto annullare i congressi perché c'erano state storiacce di tessere che non si capiva facciamo anche un brutto capitolo ma guardi è stato un brutto capitolo però capisco anche il lavoro che fate che mediaticamente ovviamente è emerso in modo particolare quelle situazioni ma sono state veramente poche nella stragrande maggioranza delle federazioni delle diciamo luoghi dove si è votato tutto si è svolto regolarmente tenendo conto che noi abbiamo fatto in due mesi quello che solitamente si fa in 8-9 mesi abbiamo eletto i segretari di circolo i segretari provinciali svolto la convenzione provinciale in tutte le federazioni ora ci sono le primarie quindi insomma abbiamo rinnovato il partito a livello territoriale per il 95% perché tutti i segretari provinciali la stragrande maggioranza sono nuovi per cui mi pare che insomma sia un'operazione decisamente significativa insomma tenendo conto che il nostro partito si basa diciamo quasi esclusivamente su quelle che sono le dirigenze locali quindi approfitto anzi della vostra trasmissione per ringraziare i militanti gli iscritti i dirigenti i sincratizzanti seguiremo in diretta questa con uno speciale di Enrico Mentana domenica sera questa consultazione quindi poi vi racconteremo voi siete pronti a incassare il colpo siete pronti perché cambierà qualche cosa a seconda di chi sarà il segretario a seconda delle pretese del segretario o lei pensa che non ci saranno contraccolpi sul governo io penso che di qui a un anno l'Italia come è giusto si dovrà preparare ad affrontare un grande dibattito un grande confronto fra un centro sinistra che sarà guidato da chi vincerà le primarie e avrà un suo programma avrà le sue indicazioni non so ancora quale saranno ma sicuramente non saranno le nostre che facciamo parte del partito popolare europeo che abbiamo i nostri valori i nostri ideali i nostri principi economici la nostra visione della famiglia eccetera eccetera quindi siamo interessati a quello che avviene nel centro sinistra un po' l'ho detto sono anche invidioso nel senso che le primarie che anche noi vogliamo fare sono una ricchezza ma però Berlusconi l'ultima volta ha detto che era a prima alle primarie che è un'idea che insomma non si fida no non è che non mi fida avevamo un po' da ridere le polemiche per esempio che fanno in Italia come lo facevano ai tempi dei congressi della DC quando in un posto o nell'altro ci possono essere cose che non vanno certo che nei regimi totalitari poiché uno solo imbroglia non ci sono problemi non ci sono possibilità locali e tutto no allora voglio dire Berlusconi sì la ragione per cui noi abbiamo fatto il nuovo partito è che noi vogliamo fare primarie vere nel senso che chi vince comanda Berlusconi ha una scelta loro di forzità che dicono c'è un capo il capo è indiscutibile è unico decide lui poi secondo i decideri del capo si può anche stabilire chi fa il secondo dopo il capo però Berlusconi essendo unito ci conferma sì l'ha detto ma siccome Giovanardi ricorda anche altre promesse non si fida no ma le primarie nell'ottica di Berlusconi sono per identificare il numero due non il numero uno no 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 il candidato premier ha detto durante la presentazione del libro di Vespa nel caso c'è l'interdittiva però anche l'altra volta aveva promesso le primarie e poi non si sono fatte diciamo che nel dicembre dello scorso anno questo processo democratico si era interrotto in maniera un po' traumatica che però va assolutamente ripreso perché a di là di Berlusconi il problema dell'Italia io credo anche del sistema elettorale perché avverto i cittadini che qualunque qualunque sistema elettorale se a morte non c'è un partito democratico che selezioni i candidati se non c'è un partito democratico in qualunque sistema ci metti i candidati che paiono ai capi preferenza o non preferenza un nominale o doppio turno i cittadini non scelgono nulla e questo è in parte è vero lo ricordiamo allora Sonia Mancini ritorniamo invece perché abbiamo parlato di politica di come ci piacerebbe ma veniamo invece alla realtà perché oggi di nuovo numeri pesantissimi la realtà non è tanto positiva come al solito perché ci sono dei numeri abbastanza pesanti per quanto riguarda soprattutto gli incassi da parte del fisco si sono ridotti in particolare oltre i 3 miliardi e 400 milioni di euro gli incassi relativi all'IVA l'imposta sul valore aggiunto in pratica si sono diciamo diminuiti un pochino sui consumi interni ma soprattutto sulle importazioni cioè l'IVA si è incassata molta di meno calcolata dal primo di gennaio dal primo gennaio fino a ottobre quindi escludendo in qualche modo ottenendo l'aumento dell'IVA che c'è stato di recente da un mese è incluso ovviamente però non è quello che ha pesato per davvero esattamente c'è proprio un discorso legato ai consumi quindi a dimostrazione di una politica fallimentare esattamente il rilancio la crescita questo sviluppo economico che per il momento sicuramente non ha ancora prodotto i propri effetti del resto è anche vero lo diranno anche i politici che abbiamo oggi qui presenti è chiaro che gli effetti di una crescita di un rilancio eccetera sono sempre un pochino posticipati rispetto a quando si cominciano le misure però è chiaro che questi dati non rassicurano un secondo Giovanni perché vorrei far concludere perché invece prima mentre vedevamo i titoli dei giornali il Sole 24 Ore metteva giustamente in evidenza le parole del Presidente della Banca Centrale Europea perché a proposito di questi finanziamenti che dobbiamo dirlo non sono ancora stati decisi lui Draghi non ha detto sì di Diano però ha detto una cosa importante molto importante siccome c'è il rischio deflazione non solo l'inflazione non continua a crescere ma continua a decrescere ma c'è proprio il rischio deflazione che vorrebbe dire una specie di blocco una paralisi economica in qualche modo allora cosa ha detto Draghi ha detto questa volta se per caso tra le misure che adotteremo per cercare di aiutare l'economia il rilancio e la crescita facciamo ancora come abbiamo fatto due anni fa cioè con la BCE cerchiamo di favorire dare del denaro alle banche le banche saranno stavolta obbligate a dare questo denaro non solo a tenersene per cercare di guadagnare qualche interesse sulle valute eccetera ma assolutamente dovranno darli destinarli alle famiglie e alle imprese perché il rilancio dell'economia passa per questo strumento non a caso oggi le borse sono andate male soprattutto i bancari perché ovviamente l'idea di dover dare un po' di soldi qualche prestito subito li ha fatti sentire male esattamente no dicevo se ci riuscirà sarà una vera rivoluzione esattamente è quello che dovrebbe fare secondo me già due anni fa secondo me siamo un po' un paese dei matti perché noi facciamo discorsi teorici voi sapete perché la col di retta era davanti a Montecitorio questa mattina perché vengono importate in Italia però lo sapete che adesso il Parlamento ha proibito abbiamo anche le immagini se la legge ce le fa ha proibito l'allevamento in Italia dei cani dei conigli quindi dovranno venire tutti da New York e dall'estero lo sapete che i animalisti hanno distrutto tutti gli allevamenti e le divisioni quindi il nostro Made in Italy le pellizze devono andare a prendere all'estero lo sapete che per i maiali e le galline ci sono teorie sui diritti dei maiali sulla gallina felice che sono tali per cui considerando l'allevamento un maltrattamento andiamo totalmente fuori mercato e quando i nostri allevatori avranno chiuso tutte le importazioni di canne arriveranno da paesi esteri dove non c'è controllo non c'è benessere animale allora io vorrei capire questo paese anche per lo sviluppo economico che cosa può fare perché siamo noi che ci tiriamo la zappa sui piedi con delle regole folli che nessun paese del mondo applica qualcuno le potrebbe rispondere che è una questione di qualità il pollo che razzola è più buono del pollo di batteria ma se fuori mercato ci dobbiamo mangiare il pollo cinese perché le famiglie possono comprare solo il pollo cinese forse rischieremo un po' di più addirittura è vero sul pollo cinese forse rischieremo ancora un po' di più al punto di vista anche della salute lei dice la nostra batteria è comunque meglio della batteria cinese poi cambia 6 mila ricercatori non si può brevettare un farmaco se non viene sperimentato prima su un animale fra cui un primate poiché noi proibiamo l'allevamento tutti quegli animali vengono tutti dall'estero siamo dei geni perdiamo il lavoro italiano il controllo sul benessere animale e andiamo a impiegare tutti gli animali importati dagli Stati Uniti o dalla Cina però noi ci potrebbe essere una sana via di mezzo dall'estremo import sono cina no la via di mezzo è cercare di ragionare sugli accordi su quello che si può fare con gli altri paesi trovare un compromesso tra quello che è l'essere naturalista essere comunque animalisti essere comunque e al tempo stesso sulla ricerca ti devo interrompere senza voler insegnare a nessuno perché siete voi a decidere è stato proibito no no ma l'ho capito lo capito assolutamente ti devo interrompere ultima battuta per Davide Zoggia perché vedo che si è già invece seduto al suo posto Luca Speciale per la pagina sportiva che oggi ancora si intreccia vero Luca con le questioni politiche perché c'è notizia anche su Enrico Letta che è andato a Varsavia quindi ci dirai finisci che parliamo cose su quello allora Davide Zoggia gliel'ho detto provi a sbilanciarsi via si sbilanci quanti vanno a votare? abbondantemente sopra i due milioni abbondantemente sopra i due milioni? sì va bene allora sarebbe davvero un successo per il PD e per il futuro segretario Luca nel frattempo invece dicevamo ci sono almeno quante persone 22 ancora nelle carceri polacche ne abbiamo parlato sempre in queste sere 22 tifosi della Lazio che sono detenuti giudicati in Polonia oggi Letta nel corso del vertice intergovernativo con il suo collega polacco in prima persona ha chiesto un'accelerazione dei tempi per la risoluzione di questa vicenda che in questi giorni vi abbiamo raccontato stava diventando un caso diplomatico tra Italia e Polonia ha ottenuto la massima disponibilità da parte del premier polacco poi dopo però ci sono state le parole del ministro degli interni polacco che ha definito questi ragazzi arrestati dei veri banditi viene da dire che comunque se così fosse è una bella partita ricordando cos'era successo a Roma in occasione della partita di andata vediamo il servizio va giù duro il ministro degli interni polacco Bartolomiej Sinkiewicz comprendo il dolore dei familiari dei tifosi laziali arrestati in Polonia ma la verità è che una parte di loro si trova a Varsavia per assistere i propri figli banditi un'affermazione pesante è arrivata dopo le parole del premier Letta che in visita a Varsavia durante il vertice bilaterale Italia-Polonia così si è rivolto al premier polacco Donald Tusk nel rispetto delle leggi della separazione dei poteri ho chiesto al governo polacco di accelerare il più possibile l'applicazione delle regole la richiesta di Letta è stata accolta da Tusk che nel corso della conferenza stampa congiunta ha detto di voler rivolgersi al procuratore generale al ministro della giustizia affinché eseguano personalmente la vicenda al fine di evitare lungaggi un'apertura in netto che contrasta con quanto poi dichiarato dal ministro dell'interno una vicenda questa dei 22 tifosi laziali fermati prima della partita di Europa League leghi a Lazio di una settimana fa che rischia sempre più di diventare un caso diplomatico i contorni ancora sfumati nulla pare certo sullo sfondo domande che non hanno ancora una risposta cos'è davvero successo e soprattutto cosa succederà ora nei giorni scorsi a chiedere chiarezza sull'operato della polizia polacca e sulla sorte dei 22 italiani tuttora detenuti è stato più volte il ministro degli esteri Bonino la situazione rimane delicata l'ambasciata italiana è presa d'assalto da giorni dai familiari dei tifosi arrestati alcuni di questi sono stati processati per direttissima per altri c'è la possibilità del patteggiamento ma in quel caso dovranno ammettere le loro responsabilità e allora potrebbero cavarsela prendendo due anni con la condizionale oltre il DASPO cioè il divieto di entrare negli stadi a metà settembre i tifosi dell'Eghia avevano provocato diversi disordini nel centro di Roma allora il bilancio fu di 13 ultras polacchi arrestati tutti poi rilasciati senza pesanti conseguenze questi sono i fatti della giornata di oggi noi rilasciamo senza conseguenze quelli che devastano il nostro paese poi dopo appunto io vorrei che ci fosse un'Europa unita anche su un principio che chi non ha fatto nulla giustamente non deve temere nulla chi polacchi in Italia italiani in Polonia o inglesi che invece pensano di andare all'estero o anche nel loro paese e fanno violenze o vengono pescati in flagranza di reato se sono colpevoli è giusto che paghiano in Italia e poi paghiano in Polonia perché lo sport è lo sport e la violenza è la violenza senza entrare nel merito di quello che si è in Polonia che non lo conoscono però bisognerebbe che i paesi avessero lo stesso standard di severità nei confronti di certi atteggiamenti Passiamo a temi un po' più sportivi più strettamente attinenti allo sport perché tra pochissime ore alle 17 in Italia in Brasile ci sarà il sorteggio che segnerà il destino dell'Italia di Prandelli nei prossimi mondiali sapete che in questi giorni c'è grande attesa ci sono state anche tante polemiche per questa sorta di sorteggio assistito che Blatter ha voluto qualcuno dice per aiutare la Francia di fatto queste sono immagini da poco arrivate di fatto l'Italia rischia di finire in seconda fascia se non addirittura in terza in balia della sorte e di finire in un girone di ferro oggi c'è stata una simulazione di questo sorteggio l'Italia è finita con Francia e Brasile pensate un po' Prandelli si è arrabbiato tantissimo più che altro per questa simulazione non gli è piaciuto il giochino soprattutto dice mi hanno riferito che siamo settimi nel ranking e quindi il criterio di questo sorteggio mondiale è tutto da rivedere e quindi staremo a vedere che cosa capiterà in sorte alla sua nazionale andiamo sulla prima pagina di Tutto Sport che fa buona fortuna Italia titolo per quanto riguarda ciò che succederà a Rio dove si fa il mondiale con il sorteggio degli otto gironi stasera a Bologna titolo centrale la voglia di fuga della Juventus che può volare a più sei con Pogba a centrocampo con Marchisio e Vidal per non far rimpiangere Pirro turno vero in attacco pronti Quagliarella e Vucinic sì perché la Juventus gioca domani proprio perché poi martedì giocherà la partita più importante della stagione quella a Istanbul contro il Galatasaray per proseguire nel cammino in Champions League L'impegno di martedì prossimo in casa del Galatasaray deciderà il futuro europeo dei bianconeri ma prima c'è da pensare all'immediata trasferta di Bologna per ribadire la supremazia in campionato e tenere a distanza la Roma più immediata inseguitrice ovvio però come Antonio Conte distillerà con estrema cura uomini ed energie Cercherò di mettere in campo la formazione che ritengo più adatta più giusta in questo particolare momento C'è da riempire il tassello lasciato vuoto dall'infortunio di Pirlo indiziato numero uno Paul Pogba che per la sua grande ed utilità potrà surrogare l'assenza del playmaker bianconero Se c'è una necessità c'è un'occorrenza e ci si lavora su Pogba in quella posizione sono convinto che lui lo possa fare molto molto bene Non è poi mancato un accenno alle polemiche sui cori offensivi intonati dai giovanissimi tifosi juventini nell'ultima sfida di campionato Quando si trattano questi argomenti come quello che si è trattato dei bambini è facile fare demagogia retorica si fa di tutto Dunque questo Conte che ha sottolineato che c'è secondo lui accanimento nei confronti della Juventus per quanto riguarda anche l'ultima vicenda della polemica sui cori dei bambini Andiamo a vedere la prima pagina che è arrivata adesso della Gazzetta dello Sport con l'addio a Mandela campione dell'umanità sotto la testata il titolo forte e la foto sono dedicate a Balotelli pronto si dice a fare il papà farà il test del DNA ma di spalla sorteggio da brividi Prandelli non ci sta europei minivaganti nel test Italia con Brasile e Francia l'abbiamo detto criteri da rivedere approfittiamo della prima pagina della Gazzetta dello Sport per dire che in Coppa Italia la Sampdoria ha battuto il Verona per 4-1 Mihailovic ha la prima vittoria adesso sfiderà la Roma l'ultimo servizio riguarda un'altra notizia di oggi un personaggio Danilo Di Luca che è stato addirittura radiato dopo la squalifica per doping dalla tribunale nazionale antidoping era risultato positivo all'epo il 29 aprile scorso era anche recidivo qualcuno dice il primo italiano sicuramente il primo grande corritore ad essere radiato sono stato il primo tante volte vuol dire che sarò il primo anche in questo tanto era già scritto che dovevo pagare io per tutti così Danilo Di Luca in un sussulto di vittimistico orgoglio dopo la radiazione decisa per lui dal tribunale nazionale antidoping in realtà la memoria di Di Luca è corta e il killer di spoltore come lo definivano i tifosi non potrà nemmeno vantare questo triste primato basta scorrere il lungo casellario dei sanzionati della nostra FederCiclismo per riscontrare almeno due radiati a vita precedenti Domenico Quagliarello e Daniele Marziani due gregari certo non vincitori di giri d'Italia o classiche del nord come l'abruzzese ma radiati prima di Di Luca al di là della primo genitura della vergogna comunque resta la sentenza che accomuna Di Luca ai reprobri del ciclismo Lance Armstrong in primis e chiude ingloriosamente la carriera del ciclista dopo la doppia positività riscontrata prima al Giro d'Italia 2009 e poi lo scorso maggio con precedenti frequentazioni con medici anch'essi radiati dal CONI un CONI che da parte sua nella speranza che Di Luca rinuncia a ricorrere in appello è davvero stanco del fango tirato addosso al ciclismo Giovanni Malagò solo poche ore prima della sentenza aveva auspicato la fine dello sputtanamento del ciclismo parole testuali del presidente una missione complessa che non può prescindere dal fare piazza pulita dei vari Di Luca ma non può prescindere nemmeno da far piazza pulita dei troppi sospetti che alleggiano sui suoi protagonisti l'attenuante del così fan tutti agitata da Di Luca fino ad oggi è difficile da digettare finché atleti semisconosciuti vincono massacranti corsi a tappe a 42 anni come Horner nella vuelta o dominano cronometro a medi da record dell'ora tutto per lo sport Flavia grazie Luca allora Sonia ci sono notizie dell'ultimo ora a proposito di Mandela abbiamo detto solo riagganciandomi allo sport possiamo dire che anche se Blatter il capo della FIFA ha detto che era una persona straordinaria probabilmente uno dei più grandi filantropi del nostro tempo è un mio caro amico quindi lo ha ricordato in questo modo abbiamo visto il suo impegno nel regno filantropia importante invece dire che avrà funerali di Stato ovviamente nel paese è già stato indetto il lutto nazionale e soprattutto le bandiere saranno a mezzasta in tutto il paese da oggi quindi da venerdì fino a quando saranno celebrate le eseque che al momento ancora non si conosce la data ma insomma si saprà a breve va bene grazie mille io prima di augurarvi la buonanotte vi voglio far vedere questa bellissima stella di Natale e ricordarvi che da domani venerdì e fino a domenica trovate queste stelle di Natale che sono le stelle di Natale che finanziano la ricerca sulla leucemia e i mielomi per l'AIL nella maggior parte delle piazze italiane quindi avete l'occasione di fare un bellissimo regalo di Natale e ovviamente di finanziare anche la ricerca scientifica che è forse la cosa più importante bene è davvero tutto è l'1 e 4 minuti io vi auguro la buonanotte grazie a tutti grazie a tutti